eccoci di nuovo assieme seconda parte di angoli ancora in compagnia di sergio tomaselli marzano il nostro psichiatra che ha come dire nella prima parte di angoli ci ha guidato alla scoperta di quelle che possono essere le manifestazioni depressive abbiamo capito che non si tratta di una patologia unica può avere diverse manifestazioni diverse forme diverse sfumature il fatto che diciamo accomuna queste patologie è sostanzialmente una sorta di annichilimento disinteresse verso la vita che può portare non solo a un enorme grado di sofferenza ma anche a gesti estremi è essenziale quindi trovare la maniera di uscire da questa situazione facendosi aiutare certo e a questo proposito vorrei chiarire una serie di punti e diciamo pure che nei meccanismi causali nel rapporto causa ed effetto che noi abbiamo identificato nei meccanismi delle patologie depressive non solo facciamo riferimento a una logica a una base epistemologica che è una base di conoscenza di tipo tridimensionale triangolare se vogliamo biologica psicologica e sociale quindi non possiamo dire io dire che è meglio sia meglio curare una parte perché perché la riteniamo più importante non possiamo fare meno di tenere conto di queste tre dimensioni per esempio anche l'aspetto sociologico prendiamo il caso di una parte di famiglia che soffre di depressione che perde il lavoro e non ha i soldi per sostenere i bambini per farli mangiare eccetera è chiaro che noi possiamo fare tutte le terapie che vogliamo ma con questo impedimento è difficile ridare al soggetto malato di depressione quel minimo di sanità per poter dire sono contento di vivere quindi è nelle terapie che noi abbiamo che noi conosciamo per curare la depressione e dobbiamo fare tenere conto delle terapie farmacologiche delle psicoterapie non tutte sono altrettanto efficaci e delle delle questioni di tipo sociologico una coppia che sta per esplodere anche questo non è certo un elemento favorevole prognostico favorevole sono questioni che lo psichiatra il medico lo psicologo clinico in grado di aggiornato tiene presente e utilizza per poter offrire al paziente sofferente il meglio possibile devo subito spezzare una lancia contro le leggende metropolitane è meglio naturale rispetto al chimico devo subito dire dipende certamente se c'è un abuso di sostanze chimiche è chiaro che non va bene e come anche dico che un abuso di sostanze naturali non vanno bene quello che va bene che qualche cosa è è la conoscenza l'adesione alle migliori conoscenze scientifiche che noi abbiamo per fare un esempio concreto l'iperico è una sostanza naturale che ha un certo effetto antidepressivo però tra tutti gli antidepressivi è quello che è più tossico e allora cosa si fa si trova anche nell'arboristeria ma in dosaggi così bassi che non hanno un effetto antidepressivo ecco poi dobbiamo subito dire che se io ho un paziente depresso grave insonne che fa fatica a dormire che si sveglia dieci volte per notte è chiaro che l'antidepressivo da solo in termini acuti in termini immediati non lo aiuta a dormire quindi io devo anche ricordare sostanze che favoriscono l'induzione e mantenimento del sonno e poi ci sono altre condizioni per esempio ci sono patologie endocrinologiche che possono favorire il mantenimento o l'induzione di una patologia depressiva quindi non è una questione così semplice che ci consente di dire va bene sei depresso ti do un antidepressivo e poi gli antidepressivi non sono tutti uguali per esempio ci sono farmaci che agiscono su una sostanza recettoriale che si chiama serotonina che però non è l'unica che è coinvolta nelle patologie depressive altre altre molecole agiscono sul sistema della serotonina della Nord Elena poi ce n'è uno che è più recente almeno per l'Italia anche se non è recentissimo almeno negli Stati Uniti che agisce su diversi recettori contemporaneamente e quindi anche qua dobbiamo capire che ci sono molte variabili è una questione molto complessa poi in base a queste poche parole che ho detto bisogna arrivare a capire che la soluzione operativa che io ritengo migliore è quella che si chiama middle sex approach che è l'approccio del middle sex che è un ospedale universitario di Londra dove hanno messo a punto uno stile cognitivo clinico terapeutico che esca dagli schemi rigidi della diagnosi depressivo maggiore o altro e che cuccia su misura un vestito non una taglia unica quindi si adatta alle circostanze del soggetto infatti si dice ICF che sta per Individual Case Formulation che vuol dire formulazione del caso individuale perché ogni soggetto depresso non è uguale a un altro lo stesso soggetto in una seconda fase di depressione può non avere le stesse caratteristiche della prima fase in più la depressione è una malattia che a volte dà delle ricadute e quindi noi dobbiamo avere un'idea precisa di tipo anche prognostico delle patologie depressive che dobbiamo curare perché a volte succede che questa patologia depressiva guarisce con un unico episodio a volte ci sono delle recidive, delle ricadute e allora la terapia complessa diciamo basata su questi tre fronti biologico, psicologico e sociale deve essere mantenuta e quindi un adeguato follow up, un adeguato controllo clinico del tempo spesso non è utile, è indispensabile per colpire al nascere eventuali crisi, eventuali ricadute poi c'è la psicoterapia, le psicoterapie, non tutte sono uguali infatti cosa che differenzia anche, appunto, immagino che si debba instaurare con il proprio terapeuta anche un rapporto di fiducia qualcosa immagino che scatterà in corso di un colloquio però come scegliere anche il professionista che fa per noi? sì, questo è un problema molto importante io penso che non si possa non tenere conto delle caratteristiche personologiche del terapeuta e non siamo sempre compatibili con tutte le persone e le persone non sono sempre compatibili col medico trattandosi di questioni particolarmente delicate io credo che sia responsabilità sia dei terapeuti che dei pazienti capire se si crea quella che noi chiamiamo therapeutic alliance cioè alleanza terapeutica che vuol dire stabilire una società per azione al 50% non al 51% se questo si crea e quando si crea si deve creare nell'arco di 1, 2, 3 incontri allora sì che si può continuare perché il terapeuta non è il padre eterno non è né il padre, né la madre, né nulla è semplicemente quello che dovrebbe essere che spesso è un esperto una persona che ci può dare una mano certo detto questo come cercare, vedendo il proprio familiare che ha dei problemi come cercare di appunto far leva sulla voglia di star meglio? ma tutti vogliono star meglio solo che non tutti riescono a identificare la strada migliore poi sa, il problema di base è quello che come lei diceva prima non dobbiamo giudicare almeno in questo ambito possiamo farlo in altri ma in questo caso è meglio cercare di capire col giudizio abbiamo due opzioni o sì o no o buono o cattivo eccetera con la comprensione abbiamo miliardi di opzioni e questo atteggiamento molto particolare che è poi come dicevo l'approccio del middle sex è un approccio che ci consente di avvicinarci al paziente alla persona sofferente nel modo più indicato possibile e a volte dobbiamo anche essere fermi essere due cosa che evidentemente è bene evitare ma di fronte a casi estremi noi dobbiamo avere la fermezza di poter proporre quando auspicabilmente e a volte anche imporre delle soluzioni terapeutiche se si intravedono dei rischi di azioni autolesive che sono quelle che vanno sempre tenute presenti in un soggetto depresso non che tutti i soggetti depressi pensino al suicidio però soprattutto nella patologia depressiva maggiore questo è un dato che va sempre tenuto presente con grande attenzione non c'è mai abbastanza attenzione in tutto questo certo e sicuramente non l'esivo dal punto di vista fisico ma l'esivo nei confronti di un percorso che può portare a star meglio può essere quantomeno controproducente ecco mettiamola così può essere anche un atteggiamento non esattamente collaborazionista da parte del paziente che credo non sia così improbabile nei casi delle sindrome depressive no, è possibile è possibile perché a volte il paziente preferisce il fai da te e il fai da te con questa patologia così complessa non funziona, non può funzionare ci sono anche delle strutture personologiche anche di tipo patologico che vanno prese in considerazione perché il depresso non è solo depresso spesso cioè su questo oltre a questa patologia depressiva ci sono anche delle strutture personologiche di base di tipo patologico dei disturbi di personalità certe modalità cognitive da rivedere certi schemi cognitivi che sono schemi di pensiero di tipo disfunzionale che non funzionano oppure certi schemi interattivi disfunzionali certi modi di rapportarsi con gli altri di tipo disfunzionale e ragionando su questi punti con la massima libertà di pensiero con la massima, diciamo onestà intellettuale possibile è chiaro che noi possiamo dare al paziente se lui ci dà questa collaborazione la possibilità di fare le cose al meglio e devo dire che in tanti anni che faccio questo mestiere ho visto dei cambiamenti dei miglioramenti inimmaginabili inimmaginabili peraltro il percorso che l'abbiamo detto anche essendo caratterizzate queste patologie e dalla possibilità di ricadute è anche un percorso lungo ed è essenziale sposare appieno la terapia senza interrompere ad esempio l'assunzione di farmaci quindi ecco com'è che si persevera sulla strada della guarigione? Si persevera con la compliance farmacologica che vuol dire adesione alle soluzioni terapeutiche che possono essere anche discusse col terapeuta perché il terapeuta io non lo considero un padre eterno lo considero un esperto però non un assoluto è una persona che si deve adeguare ecco una cosa da escludere il fai da te adesso sto bene riduco la dose no la dose la riduci se concordi con chi ti cura la questione poi per esempio anche nella interruzione delle terapie sia farmacologiche che psicoterapeutiche combinate a volte si preferisce interrompere quella farmacologica per poi continuare in modo più blando più rarefatto quella psicoterapeutica tornando ai farmaci ai farmaci antidepressivi a volte possono dare degli inconvenienti ma noi facciamo anche degli accertamenti in itiner durante la terapia per valutare se questi inconvenienti si manifestano o no sia a livello cardiologico che a livello epatico eccetera essenziale quindi comunque lasciarsi condurre per mano dal terapista con la dovuta collaborazione perché il terapeuta deve diventare il grande amico la persona al quale si può si può col quale si può collaborare si deve collaborare nell'interesse della migliore soluzione e soprattutto con quella voglia di capire che oggi di depressione si può guarire una volta era più difficile adesso no benissimo dottore io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi stasera io vorrei però se posso offrire queste poche parole ai depressi sperando che loro abbiano più fiducia nelle soluzioni perché ci sono certo grazie grazie a lei dottore allora l'appuntamento con Angoli lunedì alle 19 adesso tutte le notizie di ETG prima pagina poi a seguire Target buon fine settimana grazie a tutti ciao ciao ciao